Eccoci qui, ben ritrovati amici di Rossoni, di come state? Un saluto a tutti, vi invito a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi sul luogo di Milanello. Abbiamo assegnato la prima maglietta con il numero 10 del Milan, tre biglietti per Milan-Udinese per la gara di sabato e ora riassegneremo, non abbiamo ancora la data, questa maglietta, non questa, una come questa, del Milan della prossima stagione che inizierà sabato. Per vincerla, per partecipare al concorso gratuitamente, scaricate gratuitamente l'app di numero 10, qui sotto c'è il link e magari siete tra i fortunati, ne assegneremo diverse durante l'anno con una bella iniziativa in collaborazione con DS, scaricate da questo link, non in generale, da questo link e scrivete il vostro nome qui sotto, fatela scaricare anche amici e parenti così avete più possibilità di vincere la maglietta del Milan con già quattro persone fortunate perché è una maglietta e tre biglietti, tre che vanno allo stato. Allora ragazzi, oggi sono molto euforico perché abbiamo pubblicato finalmente il video della consegna del premio di Milanello a Leao, a Rafa Leao, un gran bel video in collaborazione con l'ottimo Fabrizio Rota, nostro videomaker, che al termine di questo video vedrete in sovraimpressione, quindi rimanete sintonizzati qui, ci tengo, lo vediate e che lasciate tanti like ovviamente per Rafa Leao che ringrazio ovviamente tutti voi per averlo votato. Un video che ci tengo, potete vedere, ripeto, qui dopo ve lo mando, ma andiamo subito sulla ultima ora calciomercato. Allora, tante notizie, innanzitutto c'è un po' di fermento in uscita per quanto riguarda alcuni giocatori. Di Bakayoko sappiamo che ovviamente il Milan non punta più su di lui, il giocatore lo sa, gli agenti stanno cercando offerte e sembra che qualcosa si stia muovendo. In uscita questo chiaramente può facilitare poi l'ingresso di un centrocampista di cui adesso andremo a parlare. In uscita, attenzione perché c'è qualche primo abboccamento, qualche primo sondaggio esplorativo non ancora offerte. I sondaggi possono diventare offerte, possono fermarsi lì sul nascere, spegnersi sul nascere. Per quanto riguarda Ballotouré, che l'anno scorso ha visto poco il campo, quando l'ha visto non ha fatto benissimo. Un precampionato migliore, però il Milan se c'è la possibilità di mandarlo altrove lo fa partire. E' a bilancio credo sui 3 milioni di euro, potrebbe partire in prestito con diritto barobligo di riscatto. In questo momento lui inizia a avere qualche sondaggio attraverso anche gli agenti che stanno guardando attorno, ovviamente, da parte di alcuni club francesi. Lo arriva dalla Ligue 1, ha una buona considerazione, tutto sommato giocava nel Monaco. Se esce Ballotouré, cosa succede? Non credo possa arrivare un terzino di ruolo, tra l'altro Parisi dell'Empoli che piaceva molto, nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto. Aveva il contatto in scadenza tra un anno, ha rinnovato, quindi anche in termini economici risulta un po' meno appetibile. A quel punto il Milan cosa può fare se parte Ballotouré? Avere un giocatore tipo Diallo, che in questo momento, come vi dicevamo ieri, è un ball, che può fare al centrale e all'occorrenza anche il terzino. Nell'anno in cui si giocano i tre giorni fino a novembre, ci sono poi i mondiali, Tornades li farà e quindi c'è bisogno di un cambio, che può fare nel ruolo e nella posizione anche Florenzi, che è più però specialista della fascia destra. Quindi attenzione perché c'è un po' di fermento. Dopodiché, c'è un rimpianto grande ragazzi, vi confesso che in questo momento non sto pensando tanto a Renato Sanchez, anche perché non abbiamo visto ancora in campo con il PSG, ma sto vedendo un ragazzo che avevamo in pugno, che sta facendo davvero, non dico il fenomeno, però ha avuto un approccio da fenomeno nel calcio europeo, nel Benfica, Enzo Fernandez ragazzi. Enzo Fernandez ha fatto anche diversi gol belli e sembra che sia un veterano del Benfica, anche se è arrivato l'altro ieri. Non lo avevamo in pugno, ma abbiamo aspettato Renato Sanchez, lui quindi non ha aspettato all'infinito, è andato a giocare nel Benfica. Tra i più dispiaciuti, il più dispiaciuto sicuramente, anche perché aveva parlato anche con lui, è Moncada, che l'aveva seguito più volte, indicato. Milan però ha perso tempo, aspettando Renato Sanchez purtroppo in vano. Enzo Fernandez per me rischia di diventare un rimpianto più grande rispetto a Renato Sanchez, perché ha avuto un approccio incredibile al calcio europeo, in questo caso appunto al Benfica, e ieri ha giocato anche contro ogni dica che potrebbe diventare il nuovo centrocampista del Milan. E' spuntato nel frattempo un nome nuovo, nelle ultime ore, quello di Ivan Ilic, serbo 21enne, 1,85 del Verona, che quest'anno non vedo benissimo, Verona, scadenza 2026, giocatore che l'anno scorso ha fatto 32 presenze, un gol e 4 assist, l'anno prima 29 presenze e due gol, parliamo di Serie A. Duttile, può giocare nei due, ha giocato anche Mezzala, anche trequartista, pure esterno, addirittura una volta punta, centrale con un gol. Sinceramente questa notizia arriva da Roma, credo che, chiaramente il Milan può gradire questo profilo, può apprezzarlo, però credo che sia più una mossa della gente per cercare di mettere fretta alla Lazio, che è il club più interessato. Profili interessanti, come ce ne sono tanti, ovviamente aspettiamo e vediamo quali sono le evoluzioni sulla ricerca del centrocampista. Dopodiché, due notizie. Un rinnovo importantissimo, molto importante, e una indiscrezione che è circolata ieri, che personalmente riporto, come giusto che sia, Sandro Tonali, nei desiderata dell'Arsenal, che avrebbe presentato un'offerta al Milan sulle 50 milioni di euro. Allora, ragazzi, ci sono i giocatori che possono andare via, ci sono i giocatori che sono sul mercato, la Juve dell'Ict l'ha fatto partire, l'Inter quest'anno, Skriner potrebbe partire, la Milanista, lo spero, perché perderebbero un pezzo importante. Qualcuno dice, ma al Milan perché non fanno offerte, perché i giocatori non sono valdi? No, perché al Milan in Vialdorossi non c'è scritto vendesi, 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 vendesi. I giocatori forti li vogliamo tenere, voi direte, però bisogna rinnovare il contratto, è vero, e non perderli a zero. Sandro Tonali non si tocca. Sandro Tonali è un giocatore del Milan, resta al Milan e resterà al Milan a lungo. Non voglio dire per tutta la carriera, perché mi piacerebbe, credo che piacerebbe anche a lui, però non mi sento ovviamente di arrivare a tanto. Sandro Tonali, che ha rinunciato dei soldi un anno fa per lui di restare al Milan, ha fatto una stagione da protagonista. Chissà, magari vincerà il prossimo premio milanista rosso-nero dell'anno. Verrà adeguato il contratto? Ma Arsenal, Liverpool, chi volete voi? No. Tonali è un giocatore del Milan, contento del Milan, il Milan è contento di lui, e quindi non ci sono proprio discorsi. Al Milan, tra l'altro, questa offerta non risulta. Vestirà questa maglia, che voi potete vincere come qui sotto c'è l'app di numero 10, scaricatela alla fine di questo video. Gratuitamente dovete scrivere il vostro nome. C'è poi un rinnovo imminente, un rinnovo importante, uno dei top del Milan, ci sono livelli e lui è uno di un livello altissimo. Nel Milan ci sono i top player. Per me i top player sono Mignan, sono Teo Hernandez, sono Tomori, sono Leao, Giroud, anche se un po' è la colletà. Ivra, meglio l'ha dato, lo sappiamo. De Kettler, spero, penso, lo vedremo che possa essere un top player. Lo stesso Tonali si consacra come credo quest'anno. Benasser si trova a continuità di prestazione a tanti numeri. Devo dire che cosa che, e poi devo andare perché mi chiamano, il nostro Tomori è prossimo al rinnovo del contratto. Scadenza questa volta a 2027, passerà da 2 milioni a 3 milioni e mezzo con i bonus, quindi andrà quasi a raddoppiare. L'annuncio potrebbe essere questione, non dico di ore, magari sì, ma di giorni. E per quanto mi riguarda è sistemare un'altra situazione, non dico delicata, ma importante perché Tomori per me è un giocatore molto importante, che ha avuto già interessamenti, questi sì, dal Manchester United ad esempio, che lui ha respinto. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate. Scaricate l'app di DS gratuitamente, qui sotto c'è il link, potete portarvi a casa questa maglietta, non questo, ovviamente uno uguale, che poi potrete personalizzare in collaborazione con DS. L'app numero uno più scaricata, con tanti contenuti innovativi, multimediali, esclusive live e calciomercato. E ora, tra poco lo vedete in sovraimpressione, ci tengo, andate a vedere secondo me il video più bello di Milanello. Più bello, lo state iscrivendo in tantissimi, la consegna del premio a Rafa Leao, andiamo dentro Milanello, lo raggiungiamo per noi, per voi, per questa nostra bella community, che merita tanti iscritti qui. Qui, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, lasciate un bel like e soprattutto tanti like al video con Rafa Leao. Guardate, buona visione e scaricate l'app di DS qui sotto. Ciao ragazzi, grazie ancora a tutti per aver votato, grazie Rafa, grazie al Milan per la disponibilità. Siamo entrati a Milanello da Rafa Leao, guardate.